Stringono orgogliosi tra le mani il diploma che ricevono dal Vescovo Monsignor Michele Tomasi, i 14 detenuti che hanno frequentato i corsi di alfabetizzazione digitale e saldatura all'interno del carcere di Treviso. Il progetto è oltre le sbarre e coinvolge diversi soggetti, tra gli altri Fondazione Opera Montegrappa, Carita Starvisina, Vicariato di Asolo, Cooperativa Alternativa Ambiente, una rete territoriale per dare ai detenuti la possibilità di studiare ed imparare un lavoro che aiuti ad evitare la ricaduta nella criminalità quando si esce dal carcere. Forse il prodotto tra quelli più importanti di iniziativa come questa, oltre che la formazione singola delle persone, è proprio il ritessere legami in una comunità che ne ha tanto bisogno e può essere un centro, un modello per tutti noi. Fondazione Opera Montegrappa ha messo a disposizione docenti e materiale. La Fondazione ha donato una decina di portatili che servono per il corso di informatica e poi lascerà e ha prestato tre saldatrici sapendo che una poi sarebbe rimasta in dono. Un'esperienza formativa e di lavoro che coinvolge un centinaio di detenuti. Almeno il 50% delle persone che sono qui detenute seguono in tutto e in parte dei percorsi di scuola di percorsi formativi. Un'esperienza forte anche per la docente del corso di informatica. All'inizio era stato un po' difficile perché un po' un rapporto di diffidenza, forse più da parte loro che da parte mia, però dopo è scattata un'empatia meravigliosa che ci ha portato a avere anche dei buoni risultati. Da oltre 30 anni la cooperativa Alternativa Ambiente si occupa della formazione professionale nel carcere di Treviso. Si partì nel 90 con i lavori di fallegnameria per sviluppare negli anni altre attività. Di digitalizzazione, laboratori di assemblaggio con attività anche molto semplici come la piegatura di cartoni, piuttosto che semplici apposizioni di etichette su bottiglie o quant'altro. Ma anche attività di un certo livello come quella che stiamo in questo momento effettuando per conto di CAME che è l'assemblaggio di termostati elettronici. Certamente un'attività di questo tipo per un detenuto che fino al giorno prima non aveva alcuna prospettiva diventa un'importante possibilità di reinserimento nella società.